segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tante cose però ci dica subito dottor gratteri drangheta e cosche mafiose in generale possono trarre qualche vantaggio dalla guerra in ucraina sicuramente alla fine di questa guerra ci saranno nel mercato nero tante armi molto più pesanti molto più pericolose rispetto a quelle dopo la guerra nell'ex giugoslavia quando l'andrangheta è andata lì e ha comprato kalasnikov a 750 euro bazooka oggi ho visto in televisione armi molto molto più pesanti e quindi sarà un problema poi per la sicurezza dell'europa dopo questa guerra avranno più armi molto più potenti cioè non c'è una tracciabilità di queste armi che vengono consegnate dagli ucraini c'era la possibilità concreta di tracciare queste armi per vedere se effettivamente sono utilizzati o vengono messi da parte come riserva aurea e allora questo è un problema che chi fornisce armi che il mondo occidentale si deve porre adesso o è già tardi non dopo la guerra dobbiamo andare a cercare queste armi dove sono state nascoste anche perché armi da guerra sono armi da scenario di colombia anni 80 no di più allora le armi che ho visto in televisione in questi mesi e non esistevano in quel periodo sono armi nuove dieci volte più potenti di un bazooka e lei teme che possono arrivare sul nostro non temo sicuramente arriveranno questo sì grazie